Adesso Wither sul cubo dei cambi, Bowers va da Ferguson, vuole attaccare aggressivo su Maspero Vedete sicuri, si va da Ferguson che non si prende la prima, finisce la penetrazione Ferguson, alza la parabola Eeeh, che figlio, veramente incredibile questa lemar Ferguson rischia Proprio così a 7 minuti dalla fine del primo quattro Entra ed esce, rimbalzi l'attacco di uno straordinario Lorenzo Iecchi e Cezmar Ferguson Eeeh, che figlio, veramente incredibile, diventa un po' l'amico E' un po' l'amico, non c'è sicuro di più, ma che mi sono accaduto? E' un po' l'amico, non c'è sicuro di più E' un po' l'amico, non c'è sicuro di più C'è sicuro di più Paragolo in Grigio Poi pari